Sì, si tratta di fronte Sì, si tratta di fronte Sì, si tratta di fronte 300 Under the bug 50, 40, 30, 20, 10, 5 Delta 160 is 11 miles out from 35 Good morning, Delta 160, Maltanza Tower, Proceeding 7 miles ahead, PA-146 Delta 160 Relief, 408 left, ECHO, taxi ECHO, Mike, hold the short, runway 35L B1, rotate Positivine, gear up Palom泥 T экs,opes, Positivine,Aloga, L Buongiorno a tutti. 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 Grazie a tutti. Buongiorno 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 a tutti. B1. Buongiorno a tutti. 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 50, 40, 30, 20, 10 35 minuti 100 80, aia controlla Villa Morassi, Rolomiti, 8073, establishing bound 8 miles 60